Sono Mimmo Di Raffaele, executive chef del Caruso a Ravello. Linguine bio alla colatura di alici e limone stusato amalfitano. Gli elementi fondamentali di questo piatto sono i limoni del sentiero dei limoni di Maiori e la colatura di alici e le alici di cetrani. Quello che rende speciale questo diamante della costiera amalfitana è che non si butta via niente. Si mangia per intero, tagliato semplicemente a fette con il sale o con lo zucchero. Può essere usato anche in tanti altri modi perché è amabile, dolce e non aspro. Con la buccia si ottiene il limoncello, con la parte bianca l'insalata di pane e di limoni e con la polpa la granita di spusato amalfitano. Questo piatto, iconico della costiera amalfitana, l'ho voluto rendere mio introducendo due ingredienti freschi e leggeri che sono le alici e la grattugiata di limone sfusato amalfitano. Vi invitiamo a degustare questo piatto sulla nostra terrazza a bel vedere ammirando la splendida vista della costiera. Grazie per la visione!